spettacolando tv siamo qui al teatro golden con il grande butto della mitica coppia andrea roncato e gigi san marchi con ci do che ci do che ci do che ci do e mettiamo subito in opera questa cosa viene un attimo dopo caso mai dopo aver fatto l'intervista cediamo che cediamo allora ci do che ci do che ci do è la frase simbolo di tutti i vostri film si venne fuori improvvisata in un film e poi piaceva ed è diventato praticamente nella normalità in italia dire ci do che ci do era a capulco prima spiaggia sinistra era proprio a capulco prima spiaggia sinistra è lì che abbiamo cominciato prima prima non abbiamo mai fatto nulla però lì vergini fino a quel film vergini non ci credo anche perché tu facevi sempre la parte del sedutore ma perché era una parte un conto parla parte un conto adesso io non sono mai stato un sedutore che ho seduto io a parte quelle 4 5 600 ha mai seduto ma ci ha provato ci ha provato e qualche volta ci è riuscito qualche volta buttare l'esca e poi qualche pesce arriverà andiamo molto indietro nel tempo all'incontro con guccini si con francesco è stato nell'incontro fatale quello perché da lui è partita l'idea no l'idea di fare di fare la coppia no perché bene o male noi facevamo già delle cose assieme però lui ci ha detto io ho aperto un locale a bologna che si chiama l'osteria delle dame venite lì vi mettete sul palcoscenico e fate le vostre cose che fate con gli amici la sera davanti a un bicchier di vino poi è arrivata sandra mondaini e ballanti ballandi con sandra mondain si esatto sandra mondaini che cercava qualcuno con cui fare le serate in giro per le discoteche i locali d'italia perché lei aveva come repertorio una cosa abbastanza breve quindi aveva bisogno di fare una cosa riempitivo e noi abbiamo fatto il riempitivo assieme a lei e poi lei devo dire che di lì ci ha portato in rai cosa che allora avete fatto al paradise avete incontrato antonello falqui insomma tantissime sì abbiamo fatto di tutto praticamente di tutto di trasmissioni per la televisione a cominciare da ello goggia tutto compreso grand hotel primatissima risatissima festival bellezza al bagno sabato al circo che potrebbe andare avanti per delle ore e per quello che a un certo punto mi hanno detto fermiamoci un attimo perché poi si rischia di stancare il pubblico e certo e cosa pensa gigi della televisione di oggi di zelig di colorado oddio mi fai una domanda un po particolare nel senso che io non guardo la televisione non guardi la televisione difatti è andrea tante volte mi dice ma quell'attrice quell'attore me le spiega lui perché io di fatti a volte quando giro e alcuni riconoscono me perché si ricordano ma io non conosco loro quindi devo far finta di conoscerli ma io in realtà proprio è una cosa nella quale mi sono divertito molto ma alla tv di oggi non riesco proprio guardarla quindi non la guardi io guardo la tv e zizi ci dà che ci dà che ci dà che ci dà ma cosa vedremmo questa sera qui al teatro golden beh vedrai un po la nostra storia l'abbiamo molto tagliata perché la primo la prima stesura dello spettacolo era più o meno quattro ore quindi bisognava farlo in una settimana a forza l'italia qui taglierà è diventato un paio d'ore divertente con i filmati con le foto con anche un'intervista a cucini mescolata ai nostri sketch che raccontano la nostra vita dall'inizio poi abbiamo dovuto saltarne tante ripeto di cose però bene o male è divertente anche vedere un po la nostra cioè io mi diverto perché gigi ha raccolto delle foto delle cose che io ormai non mi ricordavo più quindi è stato divertente anche per me a rivederli ritornare insieme come il primo amore si prima amore non si scorda mai la prima chitarra si però è vero o no che insomma è una grande emozione si no tornare insieme poi in teatro racconta raccontandoci ecco che è una cosa nuova per noi perché effettivamente abbiamo già fatto altri spettacoli in teatro ma facevamo le nostre gag le nostre cose invece così abbiamo è proprio una storia di gigi andrea per sommi capi diciamo noi avevamo fatto anche delle commedie una bellissima di luciano d'origine che si chiamava monolocale con gea lionello quindi però non avevamo mai fatto gigi andrea in teatro ma la mamma la riveremo qui sì sì bella mamma dobbiamo farla come pezzo finale perché è stato il pezzo che ci ha dato il successo quindi certo infatti quindi questa sera il poi tre giorni di seguito vero sì non domani perché il teatro è chiuso qua mercoledì però giovedì e venerdì sì e poi tournée ovviamente poi tournée giriamo un po per l'italia cerchiamo di far divertire la gente come lo facevamo allora ma io penso che bene o male ci potremmo riuscire io menziono sempre a capulco prima spiaggia sinistra perché l'ho rivisto volentieri giorni ce l'ho a caso se lo vuoi rivedere ah sì volevo dirvi è una proposta io sotto non si vede ma c'ho i calzettini così con la francesina sì ma è vero ma si li trova sexy allora qui al teatro golden gigi san marchi andrea roncato ci do che ci do che ci do vai ciao spettacolando tv hai detto bene però